Dopo la decisione del sindaco Nardella di chiudere i parchi cittadini, anche quelli non recintati, le cascine di Firenze stamani si presentavano così, vuote. Le forze dell'ordine presidiano i varchi di entrata e chi non rispetta il divieto e si reca al parco anche per fare una semplice passeggiata, rischia una sanzione dai 25 ai 500 euro, cui si aggiunge il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Soppresse fino al termine dell'emergenza anche la fermata T1 cascine della tramvia e le fermate delle linee ATAF all'interno del parco. Il provvedimento si era reso necessario dopo che nel pomeriggio assolato di domenica in molti si erano recati a correre o passeggiare all'interno del grande polmone cittadino, spesso in coppia o in gruppo, con il risultato che anche se ognuno cercava di mantenere le distanze, gli assembramenti erano un dato di fatto. A confermarlo anche il numero di accessi alla rete wifi dell'hotspot di zona che ha fatto registrare un picco negli ultimi giorni. Il comune ha deciso di ricordare ai cittadini che l'unico modo per contrastare il diffondersi del virus è stare a casa anche attraverso grandi manifesti e display luminosi sparsi per la città, alcuni dei quali messi a disposizione gratuitamente da privati. Quelli che una volta erano solo spazi pubblicitari sono ora usati dall'amministrazione per ribadire il concetto. Intanto in via per il momento solo precauzionale la protezione civile ha allestito in Viale Guidoni un'area di accoglienza per i cittadini in quarantena. Servirà a far fronte ad eventuali emergenze nel reperimento di posti per coloro che dovranno rimanere isolati per 14 giorni. Parliamo solamente di coloro che sono positivi al virus ma non sintomatici o in via di negativizzazione, in generale non ammalati. In generale i cittadini possono comunque dire la loro su quanto sta facendo l'amministrazione comunale attraverso il questionario creato dallo stesso comune e sul sito. Quali sono le difficoltà maggiori a cui far fronte? Hanno fatto bene governo e amministrazione comunale ad adottare misure così restrittive? Quanto siete preoccupati? Come sta gestendo Nardella l'emergenza? Queste alcune domande del sondaggio alle quali potete rispondere fino alle 19 di domani, mercoledì 18 marzo. Chi di sicuro trae beneficio da questo eccezionale momento è l'ambiente. Diminuzione drastica del biossido di azoto e traffico diminuito quasi del 70%, fa sapere il sindaco dalla sua pagina Facebook.